31 di gennaio, ultimo giorno del mese, fuori il tempo è così così, alquanto caldo come il sole, ma freddo come sostanza. E cominciamo questa giornata, sono le 4.25, cercare di parlare di qualcosa di frivolo, di qualcosa che non sia molto importante, di ciò che facciamo durante l'arco della giornata, perché è questa la prassi quotidiana, dopo che abbiamo finito le scuole, abbiamo finito gli impegni, abbiamo finito anche il lavoro, che si appresta ormai ad essere prossimo alla pensione, fare questo tipo di terza età, che è la nostra realtà quotidiana. Io, certe volte, quando faccio tutte queste cose, cerco di non perdere di vista quello che erano i miei principi da giovane, da ragazzo, cercando di guardare qua, guardare là, sentire le persone parlare, cosa dicono, cosa non dicono. Quest'oggi abbiamo incontrato un paio di anzianotti, più di me, per la verità, che si prendono la vita allegra, allegra, cercando di scherzarci su, e soprattutto di avere ancora una sessualità, come ha detto uno, molto avanzata, che per soddisfarsi, dato che non c'è più la moglie, che l'ha persa tre anni fa, ha detto, e voi come fate in questo? E dice, io ho delle amiche, le vado a trovare, mi costano 15 euro alla volta. Quanto ho detto 15 euro? E mi fanno un bel po' di cose con 15 euro? No, dice, mi fanno proprio tutto. Io gliel'ho detto, posso spendere 15 euro al mese e faccio questo. E loro puntualmente dicono, mi soddisfano. Poi ci siamo messi a parlare di altre cose, ho detto, lasciamo perdere, sarà vero, non sarà vero. Comunque, uno che non ha la moglie, giustamente deve soddisfare, perché lui diceva che a quell'età, quasi ottantenne, aveva una sessualità piena. Queste sono le cose frivole che noi facciamo tutti i giorni, quando non andiamo a prendere la spesa, quando cerchiamo di andare in un ufficio a sbrigare qualche pratica o alle poste e così via. Alla fine, se ci vogliamo ragionare, la terza età, quella che ci apprestiamo ormai, che io mi appresto a iniziare, ha dei vantaggi, ma ha anche qualche svantaggio. Ecco, i vantaggi sono che oggi, più di prima, come ho detto a De Signore oggi, si può avere la possibilità di dire le cose come stanno, di dire la verità, di dire il vero. Non c'è bisogno più, come si fa a trent'anni, di nascondersi dietro le bugie, di far finta di niente, di non toccare certi argomenti. Quando si è prossimi ai settanta, si dovrebbe essere libero mentalmente, avere una certa distacco da tutto ciò che succede e dire le cose come stanno, ossia dire la verità. Ma succede a tutti questo. Ci sono dei vecchi che più diventano vecchi e più diventano bugiardi, nascosti, come se giocassero al nascondino, non amano dire le cose come avvengono a quell'età. Ed è purtroppo, secondo me, un piede sbagliato per iniziare questa terza età che poi ha soprattutto nell'abito familiare le sue palle al piede, più di una. In terza età ovviamente difficilmente si hanno figli di un certo modo, la moglie che contesta sempre, i parenti, i familiari che sono, come dire, rampigni, si dice qua, nel senso che pensano ai cazzi loro. E perciò è un modo di convivere con una certa prudenza, perché purtroppo uno, potendo, toglierebbe tutto di mezzo e cercherebbe di affrontare questa vita da terza età appunto da solo. Io ci penso da molto tempo, onestamente. Non è che mi aggrada tutto quello che mi capito attorno da un punto di vista familiare. Lo dico con molta serenità, perché forse tante cose che non si vedevano in età giovanile, in età, diciamo, quando si doveva lavorare, quando si dovevano raggiungere certi scopi, certi obiettivi, perciò tante cose non si vedevano. Nella terza età, non avendo più quella disinvoltura fisica che si aveva prima, tante cose incominciano a venire fuori. Uno diventa più riflessivo, quasi quasi si abbandona a certi concetti ben precisi, fa un po' di meditazione. È un mondo più tranquillo, dove le cose appaiono nella loro concretezza, nella loro realtà più cruda. Io, onestamente, da tempo penso, forse, non voglio mai parlare dei miei fatti, anche se chi porta avanti dei discorsi deve certe volte parlare di sé medesimo, perché allora quello che sta dall'altra parte non capisce mai quello che vuol fare questo individuo, diventa come un cronista dei fatti, diciamo, di tutti e di nessuno. Deve anche partecipare a dei coinvolgimenti personali di ciò che sta facendo, di ciò che sta portando avanti. Io, ripeto, da molto tempo sto riflettendo a certi miei compagni che si sono proprio divisi dal resto della famiglia. se ne sono andati, diciamo così, se non proprio divorziati, ma separati momentaneamente, perché erano in momenti di riflessione e di ripensamenti e hanno incominciato a vivere da soli, facendo la spola durante la settimana con la moglie, con il resto della famiglia, molti di loro hanno molti figli. E quindi c'è questo distacco che permette a queste persone di poter stare da soli, più con se stessi, cercare di riflettere, di pensare e di vedere come portare avanti questi ultimi anni della nostra vita. Perché l'importante nella vita è cercare di adeguarsi al periodo che si sta vivendo. E io, mettiamo, sto vivendo il terzo periodo della mia esistenza, un periodo che non è facile, ma non è facile perché non mi sento più bene fisicamente come lo ero vent'anni fa, trent'anni fa. Ogni cosa che, ripeto, sento in famiglia mi viene di sbottare, di gridare, di perdere spesso le staffe. I figli purtroppo sono così, alla buona. Ovviamente tra mamma e figli si crea un'alleanza tremenda da queste parti, ma del resto anche in Sicilia, anche in Calabria, anche in Puglia, anche nel Lazio, in Lombardia, ovunque. È così, l'italiano è fatto così, ha delle caratteristiche ben precise. E in famiglia purtroppo noi maschiette siamo sempre messi un po' da parte, tra i figli e la mamma c'è sempre stato anche in età avanzata un'alleanza che dura da quando erano giovanissimi. Tutte queste cose ti danno un fastidio enorme, non ti permettono di poter avere una vita serena, bella, tranquilla, non puoi realizzare ciò che pensi di realizzare, non puoi dire ciò che pensi di dire e che magari hai sempre detto e le cose diventano sempre ingarbugliate giorno dopo giorno. Poi ho conosciuto ieri, è da tempo che lo conosco, un altro vecchietto che quando me lo vedo di fronte mi fa un po' avere un po' di nostalgia della mia Sicilia perché lui è da una vita anche lui ha la stessa situazione quasi mia, non uguale ma là c'è un mare di soldi, anzi ci sono un mare di soldi, ci sono case, ci sono terreni, ma lui il suo sogno sarebbe quello di andarsene e andarsene proprio in Sicilia dalle parti di Acicatena, Acicastello, Acic Sant'Antonio, dalle zone del Verga in poche parole perché da ragazzo è stato là, addirittura si è sposato là e i propri figli sono nati in Sicilia e vorrebbe fare gli ultimi giorni della sua vita proprio da quelle parti. È un desiderio che dico io non è difficile da realizzare, basta pensare apertamente anche se la famiglia è contro, i figli sono contro, la moglie è contro perché non si distaccherebbe mai da Giuliano, è una vera Giulianese, ho detto ma si faccia dire quanto le spetta di diritto, cioè 400, 500 mila euro, 300 mila euro, prendete il gruzzoletto e ve ne andate da quelle parti in zona catanese dove vi potrete trovare anche un una bella svedese, una bella ucraina, una bella polacca e vivere gli ultimi anni tranquilli e non con una vipera come vostra moglie perché la conosco così sommariamente. Sono persone che è meglio non averci a che fare. Questo è un altro desiderio, io vedo che questi desideri da parte di queste persone che hanno la mia stessa età è un qualcosa che ci accomuna, che abbiamo un po' tutti. Io magari per altri versi, altri altri desideri che sono simili, non uguali a questi qua. Io non vorrei ritornare sicuramente a Cavodorlando, io amerei stare quasi da solo, magari da solo e vivere in un posto che non sia neanche lontano da qua o magari spostarmi dalle parti di Roma, dalle zone molto popolose e frequentate, non potrei più ritornare in poste di 12.000 13.000 abitanti come del resto è Capodorlando, non esiste proprio. E poi in questo cammino da italiano io devo andare verso su e non ritornare di nuovo verso giù, perciò devo andare in posti come può essere Roma, come potrebbe essere Bologna o ritornare dalle parti della Toscana o del Veneto, chissà, ho dei pensieri che mi frullano e chissà se riuscirò a metterli a frutto. Ma cos'è effettivamente alla fine che spinge questi personaggi di una certa età a evadere? Il motivo principale è indubbiamente la compagna. Le compagne che ci sono qua sono delle compagne asfissiante a parte questo poi quello che non si può tollerare è il legame che succede o che nasce con i figli. è un legame che mira a buttarti fuori dal cerchio e non vivere bene a soffrire ad avere sempre dei problemi non indifferenti. E quando si ha questa età che non si ha più un fisico a posto e dove si deve veramente fare i salti mortali durante la giornata per poter poter fare qualcosa un attimino che prendo un goccio di caffè e sono cose brutte da raccontare brutte da dire questa è un'amara realtà che comprende me ma comprende anche tante persone della mia età la domanda è riuscirò a risolvere questo problema ad avere più serenità più libertà più autonomia non lo so non lo so sinceramente cercherò di portare avanti questo sto facendo delle introspezioni sto cercando di esaminare attentamente tante cose per vedere se posso mettere a posto e realizzare qualcosa sarà molto difficile ma quando mi metto una cosa in testa io ho molta fiducia che o prima o poi o presto o tardi ci riesca ora dopo aver parlato di questi fatti personali continuiamo su questa falsariga e cercando di capire cosa si raggiunge avendo questa disponibilità questa libertà possiamo dire si raggiungono tantissime cose perché si potranno capire meglio certe situazioni si potrà avere più disponibilità nel vedere la vita in un certo modo perché noi oggi purtroppo la vita la vediamo dal nostro punto di vista che è un punto di vista un po' anzianotto e poi avendo meno libertà in un'età avanzata le cose diventano sempre più difficili perché io oggi per poter capire una cosa per poter interpretare un fatto ho bisogno di più tempo e se il tempo non è un tempo tranquillo dove c'è serenità dove c'è la libertà dovuta io difficilmente posso raggiungere determinati obiettivi mi viene molto più difficile e questo lo ammetto e dopo tutto questi video che io faccio sono video che devono avere un prosieguo perché io ho in mente di farne ancora tantissime però per come stiamo andando per come io mi scimento per come mi sento quando preparo questi video non ci siamo proprio perché a volte mi sento nauseato a volte mi sento proprio depresso anche se io non faccio mai trasparire queste situazioni sono cose che sono dentro di me ma sono importanti non averle queste cose dentro perché non ti danno quella chiarezza quella limpidezza che una persona può avere in momenti diversi quando si sente tranquillo sereno ben predisposto ad affrontare certi temi tutto questo mi sta preoccupando da qualche giorno a questa parte e cercherò di risolvere il problema perché purtroppo caramici non riesco in questo momento ad avere quella limpidezza per motivi appunto personali quando una persona che fa che scrive un racconto che scrive che parla che dice qualcosa non riesce ad avere questa serenità è inutile affrontare certi argomenti perché verrebbero questi argomenti affrontati in maniera così claudicanti zoppicanti e tutto qua certo qualcuno dirà finalmente abbiamo visto di questo tizio un po' di cose negative indubbiamente indubbiamente perché io ho tante cose negative anche se sembro una persona che va avanti come un treno e vado avanti come un treno però ci sono tante cose che quando io metto sul sul tavolo e ne discuto dentro di me ci sono tante altre reazioni negative che purtroppo devo assecondare in quel momento perché non riescono ad essere diverse non riescono ad avere quella limpidezza dovuta e vi ho spiegato il motivo qual è il motivo è semplice è un motivo di mancanza di libertà e di serenità che dovrebbe esserci in qualsiasi momento della giornata perché io conosco questa libertà conosco questa serenità ma purtroppo da molto tempo a questa parte conosco anche una certa resistenza da parte soprattutto dei familiari e mi sembra un ritornare ai vecchi tempi quando ero ragazzo e quasi tutti i miei parenti erano contro di me purtroppo è un una forma del mio destino io credo tantissimo nel destino noi siamo come dire i padroni del nostro destino e nel mio destino destino si intende tutte quelle forze che incidono nei nostri confronti e che nessuno di noi può farci niente quello è chiamato fato chiamato destino chiamatelo come volete ma è questo e il mio destino è quello di avere tutti contro in qualsiasi momento questa è una cosa incredibile io mi ricordo quando ero ragazzo incominciavo per la prima volta a scrivere a fare qualcosa a creare qualche romanzino qualche notizia cercavo di muovermi nel mondo del giornalismo e tutti i miei parenti di natura di mamma zona di mamma di papà un po' meno anche perché quelli di papà a Brolo o fuori di Brolo non li vedevo quasi mai ma quelli di mamma erano tantissimi ed erano tutti contro di me vuol dire che c'è un ritorno a questo a questo fare gruppo ed essere contro di me non so per quale motivo qual è l'invidia sono tanti i motivi che spingono queste persone io da parte mia onestamente li vedo poco e non do adito a loro di poter avere invidia di avere come dire reazione nei miei confronti non penso proprio ma vuol dire che io suscito queste queste attenzioni che non possiamo dire neanche attenzioni positive sono attenzioni negative che te lo fanno capire che ti fanno delle romanzine che ti dicono tu ormai a una certa età e a certe cose non devi pensare e cosa vuol dire cosa vuol dire uno perché ha una certa età non riesce o non deve più fare determinate cose io ho degli interessi che loro non hanno non lo metto in dubbio e se vogliono colpire me loro cosa fanno come facevano ai tempi con mia madre cercavano di colpire mia madre per colpire me e oggi cercano di colpire la sorella la cognata mia moglie per colpire me e giustamente quella dizia avendo questi parenti tutti dalla sua parte e sentendosi lei un gruppo unico loro si sentono tutti un gruppo unico giustamente anche mia moglie dà loro ragione e viene contro di me se non palesemente ma lo fa capire molto realmente poi alla fine ed è una cosa bruttissima una cosa che non non si può sopportare o quantomeno si può sopportare eh fino a un certo punto fino a un certo io ultimamente ho tentato di eh di poter fare qualcosa ma mi sono reso conto che non è facile affrontare questi argomenti a tu per tu perché è inutile qualcuno può dire ma perché non ne parli perché non ne fai una vera discussione cerchi di raggiungere eh un obiettivo uno scopo trovi una certa intesa eh sì è giusto forse la cosa più giusta da fare è proprio questa ma difficilmente raggiungerei l'obiettivo della pacificazione non non esiste proprio qua quando eh si entra in conflitto è un conflitto che perdura per tutto il tempo per tutta la vita ecco perché io sto cercando di ragionare in maniera molto pratica cercando di risolvere il problema e di chiudere questa faccenda nel migliore dei modi bene io ora vi saluto certo ogni tanto bisogna dire qualcosa di proprio bisogna come dire confessarsi con gli amici dire la realtà com'è perché bene o male questi problemi ce li abbiamo tutti e lasciarli dentro di noi facendoli eh come dire bollire dentro di noi non porta a nessun risultato ci fa stare male ci fa sentire sempre peggio eh ed è giusto che ogni tanto soprattutto per chi fa dei video dire le cose personali come stanno perché non si può parlare sempre di fatti altrui ogni tanto deve essere anche diretto interessato di dire come si vive come si sta che che sensazione si stanno provando e tanto altro ancora è giusto è un modo di essere anche umili e far capire a tutti che siamo tutti nella stessa barca che stare zitti non conviene più a nessuno non serve a nessuno è meglio dire le cose come stanno sempre con molta umiltà e soprattutto con tantissima verità a voi tutti buona serata grazie a tutti